Intel passa al lato oscuro, Nvidia sta finendo le RTX 4090 e si parla di una prossima scheda video che avrà due connettori da 600 Watt. Queste e altre news nel nuovo episodio di Morte News. Abbiamo delle notizie a dir poco calienti, soprattutto se considerate la potenza che potrebbe passare nelle prossime schede video. Ma ci arriviamo, facciamo un pochettino invece prima un round up di notizie veloci sul mondo hardware. Allora, iniziamo con Logitech che ha lanciato la prima alternativa di mercato a quello che è il Master Hub di Cooler Master e contemporaneamente tra quanto il comparto di Stream Deck di Corsair. Sto parlando della Suite MX Creative Console che va a offrire un po' di strumenti utili per tutte le persone che facciano produttività, streaming e contesti di utilizzo simili per quanto riguarda il proprio computer. Allora, devo dire che è un lancio un po' particolare. Partiamo da prezzo e lancio che saranno il 14 ottobre 2024 e di 200 dollari. Per quanto riguarda il prezzo invece, come ci riporta Mordentech.it. Immagino che poi il prezzo sarà allineato più o meno in termini di euro. Tutto quanto gestito dal software Logi Option Plus, come ci riportano qui, e sarà valido sia per Windows che Mac. Devo dire che hanno fatto questo trailer un po' caratteristiche in cui ci fanno vedere alcune possibilità, principalmente nell'ambito del design, della direzione di film, ci sono un po' di strumenti. La cosa probabilmente più interessante è questo strumento laterale che in realtà richiama molto da vicino quelle che sono le possibilità delle tastiere Work Louder. Però devo dire forse un po' troppo poco, un po' troppo tardi, nel senso che l'offerta di mercato attuale del Master Hub secondo me sarà molto interessante. Quello che fa la differenza ovviamente in questo caso sono le implementazioni software. Come ci fanno vedere qui, in questo caso l'implementazione ufficiale è con i programmi di Adobe. Purtroppo, per fortuna, non lo so, comunque sono alcuni dei programmi più utilizzati al mondo, possiamo andare anche oltre. Intel ha deciso di cambiare paradigma per quanto riguarda il proprio packaging. Infatti non avremo più le classiche confezioni blu. La prossima generazione di Intel Core Ultra, come potete vedere, avrà un design particolare. Prima di tutto differenze tra l'Ultra 5, l'Ultra 7 e l'Ultra 9. Come potete vedere sono due packaging per i due più piccoli, mentre il 9 ha un design tutto particolare. Però la parte dominante è che quelli piccoli sono di un nero blu scuro, insomma, molto bello, molto bello esteticamente, devo dire. Mentre AMD continua a ridurre sempre di più il proprio packaging a qualcosa di molto molto ridotto, Intel questa cosa la tiene viva, sapendo che la gente un po' le proprie confezioni le colleziona. L'Ultra 9 è decisamente più pomposo, come anche questa parte laterale che si mostra. E non è però la prima volta che si fa vedere in veste nera Intel. Infatti, come potete vedere, queste edizioni speciali dei 14790F, dedicate al mercato cinese, effettivamente avevano già un packaging simile, ovviamente con il design però precedente della confezione. Carine, niente da dire. Mi fate sapere la vostra opinione nei commenti. Ovviamente questi qui saranno i primi a uscire, cioè il corrispettivo di i5, i7 e i9 versione K sbloccata per overclock. E sono abbastanza curioso di provarli. Speriamo che effettivamente siano validi. Intel ne hai bisogno. Nvidia sta terminando le 4090. Insomma, non è una notizia nuova che questa top di gamma appunto stia raggiungendo la fine della sua vita. Però effettivamente gli stock stanno definitivamente terminando. E questo sta portando a problemi appunto di approvvigionamento in regioni come quella della Germania. prezzi che salgono ovviamente sì, poi sappiamo anche che questa scheda comunque ha un utilizzo abbastanza verticale per il mondo dell'intelligenza artificiale fornendo una potenza di calcolo piuttosto elevata, tanta VRAM, ad un prezzo che per quell'ambito è abbastanza contenuto, cioè sotto i 2000 euro. Quindi la richiesta è alta e l'offerta non è paragonabile. Cosa che ovviamente mi fa pensare che a molto molto breve vedremo le 5090 perché devono sostituirle. Effettivamente in Germania come potete vedere il modello più scarso, la Game World Phantom è a 1739 euro con picchi, vabbè, però in realtà la Supreme Liquid a 1949 in pari con la TUF non è neanche tanto. Ci sta, onestamente è valido. Però sì, effettivamente i prezzi vanno fino a 2000 euro, cosa che è un prezzo più alto per la Germania in media. Tornando a Intel, negli ultimi giorni sono usciti i nuovi Intel Core Ultra 200V, le versioni mobile con alta efficienza, concorrenti dei Ryzen AI 300HX. I nomi iniziano veramente a ledermi qualche parte del cervello. Ad ogni modo abbiamo i primi benchmark, sia gaming che produttività, di Tom's Hardware US. Allora, qui abbiamo un pochettino la line-up che hanno utilizzato, un confronto con Meteorley che è a me di Strix Point, appunto col 370, qui abbiamo il 288V che è il miglior, appunto, Intel Core Ultra 9 disponibile. E come potete vedere le considerazioni primarie da fare sono che qui abbiamo un 8.8, niente hyper trading. E invece a paragone sul Asus ZenBook 14 OLED abbiamo 6P Core e 8E Core. Invece qui abbiamo 4 Zen5 e 8 Zen5C per quanto riguarda il 370DMD. TDP abbastanza simili, 3028-28, una nuova ARC 140V che va a confrontarsi con la 890M. Ed effettivamente per il resto siamo abbastanza in linea, se non consideriamo che però Intel ha un boost per quanto riguarda le memorie con delle LP DDR5X da 8.533MHz, cosa che potrebbe influenzare positivamente i programmi di produttività principalmente. TOPS vince ancora tantissimo AMD. Per quanto riguarda i primi risultati sintetici, come potete vedere 3DMark privilegia il 288V in modalità performance, ma anche in quella standard, quindi ha maggior risparmio energetico. Però è una situazione artificiale e di per sé questa non rappresenta quello che potrebbe essere il massimo della produttività. Potrebbe per esempio aver preso un grosso vantaggio per quanto riguarda la velocità delle memorie, per esempio. Adesso vediamo un pochettino i giochi. Allora, c'è a dire che è stata fatta, secondo me, un errore da Tom Sardware in questa recensione. Nel senso che sono andate ad operare la frame generation dell'FSR. E questa frame generation dell'FSR, come poi si sono anche accorti loro, effettivamente causa problemi con Intel, che potrebbero ledere le performance in favore di AMD. Cosa che ovviamente vuol dire che AMD avrà comunque quei risultati che vediamo qui a schermo, come per esempio 84 FPS in 1080p medio, appunto, su Black Mifu con Android X12. Un risultato che onestamente ritengo più che valido, cioè 84 FPS, ok, stiamo usando la frame generation in una situazione un po' drastica in 1080p, però effettivamente parlando, oh, è un GPU all'interno di un processore da 28 Watt. È un ottimo risultato. Invece, come potete vedere, per esempio, neanche in versione performance si superano i 40 FPS sul 288V, che viene addirittura abbattuto, in realtà, dal precedente modello, sia in modalità standard che in modalità performance. Cosa che ci fa pensare che probabilmente c'è qualche problema di incompatibilità. Questo perché la frame generation e le FSR potrebbero influenzare negativamente, appunto, la 140V, ancora un po' immatura. Cyberpunk, situazione simile, come potete vedere, se non che il 155H ha una certa o inizia a perdere qualche posizione. E in realtà Shadow of the Tomb Raider ci fa capire che probabilmente, appunto, il problema in questo caso è l'FSR. Come potete vedere, il 288V recupera terreno, voi direte che differenza sono 6 FPS, ma in realtà, con numeri così bassi, siamo a oltre il 10%. Risultato veramente molto interessante. Anche perché effettivamente mantiene lo stesso livello anche a standard, dove soltanto il 155H lo riesce a superare utilizzando il profilo performance a massimo consumo. Risultati che per ora devono essere contestati, perché effettivamente bisogna vedere se riusciranno a fixare questa cosa del rapporto con l'FSR della frame generation. Ma per adesso interessanti. Comunque, ad ogni modo, per adesso Ryzen, in questo contesto specifico, risulta essere un po' più maturo. L'offerta delle memorie potrebbe giovare positivamente per quanto riguarda l'ambito della produttività nel contesto del 288V Intel Core Ultra 9. Ed effettivamente questo potrebbe essere interessante. Staremo a vedere un attimino i contesti più approfonditi man mano che escono nuove recensioni. Ok, adesso passiamo alla notizia del giorno. La 5090 potrebbe avere due connettori di alimentazione da 600W. Perché? Perché ce lo dice questa immagine. A quanto pare internet crede a qualsiasi cosa gli venga palesata davanti. Questa immagine è un bruttissimo caso di Photoshop, come probabilmente lo è anche quello della mia copertina, ma noi speriamo di averla fatta meglio. Effettivamente parlando, la 5090 potrebbe avere due connettori stando a Tweak Town per un motivo. Cioè l'incredibile diffusione di questi alimentatori che hanno appunto due porte da 12V con lo standard ATX 3.1, che dovrebbe appunto andare a portare 600W per cavo. E quindi la gente pensa, siccome ci sono questi alimentatori di fascia alta che lo integrano, effettivamente deve essere che le schede video andranno a consumare un botto di più. Ora, possiamo confermarlo? No. Però posso farvi una piccola analisi che abbiamo fatto internamente per cercare di capire il perché effettivamente possano servire due cavi da 600W. Perché comunque se questo qui della 5090 non è l'utilizzo reale, quale potrebbe essere? Per quale motivo? Dovete sapere che Intel anni fa ha lanciato uno standard che si chiama ATX 12VO. Ovvero uno standard per migliorare i gradi di efficienza dei computer fissi andando a utilizzare soltanto alimentazione diretta a 12V. Ed esistono in realtà prodotti di questa categoria, come per esempio questa scheda madre, la H610M12VO. Non è uno standard diffusissimo, ma dal 2023, più o meno dalla fine, si stanno iniziando a vedere sempre più soluzioni. Corsair stessa ha rilasciato una versione dell'RM dei loro alimentatori con appunto questo standard, di cui possiamo trovare qui per esempio il cavo per alimentazione diretta. Ora, non è effettivamente uno standard che si sia diffuso o che sia la prossima grande novità. Però mi viene il dubbio nel vedere due cavi da 600W per il fatto che si stia andando sempre verso meno cavi, situazioni come BTF, Back Connect, Project Zero e cose così. E qui abbiamo un cavo che effettivamente alimenta a 12V e quindi potrebbe essere un sentore di portiamo sul mercato questa cosa e vediamo un pochettino come va. Piuttosto che avere l'idea di portare sul mercato una 5090 che richieda due cavi di alimentazione. L'unica altra opzione che mi possa venire in mente, ragazzi, è un po' una forma di ridondanza. Cioè, vi ricordate che le 4090 avevano problemi di alimentazione con appunto i cavi 12V Power? Effettivamente questa cosa ha continuato un pochettino nel tempo, poi sembrava essersi risolta, sono nate delle soluzioni e cose del genere. Ora, mi verrebbe da pensare che effettivamente mettendo due cavi ad una singola scheda video si possa bilanciare meglio il caso di una scheda video come una 5090 che possa richiedere magari, non so, 600W dividendo 300 e 300 sui due cavi, riducendo le possibilità di errore. O magari è semplicemente un possibile cavo di ridondanza per applicativi che debbano fare lunghi render, ma questa mi sembra una cosa abbastanza assurda, nel senso non c'è niente che lo confermi. Queste sono un pochettino le mie opinioni per quanto riguarda questa situazione. Secondo me non dobbiamo aspettarci effettivamente una 5090 che consumi 1000 passawatt, perché sarebbe veramente assurdo. Potrebbe essere una ridondanza, potrebbe essere una semplice divisione del carico, potrebbe essere che lo standard appunto 12VO stia arrivando o cose del genere. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti. Sapete quando i brand vogliono essere un po' loschi? Beh, Bethesda ce lo sta ricordando dopo l'acquisizione di Microsoft. Vi ricordate Starfield, il fantastico gioco spaziale megamagico che era uscito con delle recensioni un po' controverse al lancio? Beh, sta tornando con un nuovo DLC. E sapete qual è la grande giocata che ha pensato di fare Bethesda? Che il DLC uscirà al costo di 29,99 e non avrà recensioni al day one. I recensioni dovranno comprare l'espansione e successivamente pubblicare il video, qualche giorno dopo, 24 ore dopo o durante l'uscita del... Sì, perché? Perché effettivamente questa cosa permetterà probabilmente a Bethesda di avere del tempo di respirare e di fare abbastanza vendite senza poterli poi rimborsare. E questa cosa non ci piace. Non ci piace assolutamente Bethesda. Non ci piace. Questo suona super super losco e lo sapete. Lo sapete benissimo. Per chiudere questo episodio di More Than News, ragazzi, una piccola novità. Ho deciso che in ogni episodio vi consiglierò un gioco che magari vi può interessare o meno. Per questa settimana vi consiglio qualcosa che è appena uscito, ovvero Frostpunk 2. Un gestionale survival che vi mette alla guida di una città, un complesso industriale più che altro, che effettivamente vi porterà a dover gestire situazioni drammatiche all'interno di un contesto da era glaciale ed è veramente molto figo, ho oltre 150 ore su Frostpunk 1, quindi vi straconsiglio di passarne attrettante anche sul 2, visto che io lo farò. Per il resto è incluso nel Game Pass, ma potete comprarlo su Steam e Epic Games. Provatelo. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo, voi state su More Than Tech, salamusa!